SI è raccontata in una recente intervista, la bassista dei maneschi in Victoria De Angelis. Un passato difficile per la giovane musicista che ammette. C'era qualcosa di rotto. Con la grande vittoria di X-Factor, che nel 2017 li aveva fatti conoscere al grande pubblico, i manechesi ne erano passati dalle strade di Roma ai grandi palcoscenici. La fama internazionale è arrivato però quattro anni dopo, con la vittoria di Sanremo prima, e dell'Eurovision poi. Quattro anni pieni di soddisfazioni per la band, che con diversi singoli di successo si era già piazzata in cima alle classifiche del nostro paese. Una delle componenti è Victoria De Angelis, che a soli 21 anni è già un'ottima musicista, e grazie alla sua personalità si è messa spesso in mostra in positivo. Il suo groove al basso è letteralmente una bomba, e insieme a Damiano è sicuramente una delle più amate e seguite componenti della band. Il passato della classe 2000 però è stato duro, soprattutto in età adolescenziale. Ne ha parlato di recente in un'intervista al settimanale L. Un'infanzia nel segno della ribellione, quella dello stereotipo della «femminuccia», culminato con la scoperta del rock che le etichette le ha sempre escluse. Mi sono ritrovata nel rock, che ha incarnato quello slancio di libertà. Aveva un rifiuto verso tutte le cose da bambina. Andavo in skate e avevo i capelli corti. Ma il periodo più buio per la giovane bassista è stato quello dell'adolescenza. Attacchi di panico, difficoltà ad uscire semplicemente da casa. C'era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi racconta L. Prima me ne vergognavo. Ora non ho più bisogno di nasconderlo. e non ho più bisogno di nasconderlo. Grazie per la visione!